La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. La terza copra che è stata richiesta da Yumi Naike, Enzo, si intitola Dicti, è andata da Ketama 126. Grazie.